Assessore Pepe, in cosa consiste questa semplificazione della gestione del patrimonio viticolo abruzzese? Sì, una rivoluzione importante a livello procedurale, grazie all'impegno dei nostri uffici, ringrazio il direttore Chiarini e quanti hanno lavorato a questo progetto di semplificazione di tutta la struttura vitivinicola abruzzese. Dal 1 agosto partirà una vera e propria rivoluzione che consentirà di sburocratizzare gli aspetti che riguardano il viticolo abruzzese, in particolare il potenziale viticolo abruzzese, quindi le superfici vitate e quant'altro. Un procedimento che è stato realizzato grazie all'impegno di una task force all'interno dell'assessorato, condiviso anche dalle organizzazioni sindacali e da domani si avranno gli effetti concreti di questa rivoluzione culturale. Mi auguro che questi processi di sburocratizzazione possono continuare a migliorare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché noi dobbiamo rendere la nostra regione facile e veloce, come giustamente sottolinea il nostro Presidente, e dobbiamo evitare sempre più le evidenze burocratiche che sono state nel passato assurde. In particolare uno degli aspetti che emerge da questa rivoluzione? Ma noi dobbiamo semplificare, ridurre i costi di gestione, l'introduzione molto del sistema informatico, dobbiamo fare in modo di dare meno problemi agli agricoltori e ai viticoltori, quindi noi dobbiamo rendere un servizio assolutamente facile e veloce e attraverso questa rimodulazione che hanno fatto i nostri uffici sicuramente daremo un servizio importante al mondo della viticoltura. Quanto tempo, secondo lei, sarà impiegato per entrare a pieno regime questo tipo di... Ma noi entreremo a pieno regime da domani, dal 1 agosto, quindi per la prossima campagna saremo pronti assolutamente di dare questo servizio. Pensate che nel passato questo mondo era rappresentato da 20.000 copie cartaci, documenti cartaci che venivano forniti e questi saranno ridotti in maniera consistente e determinante. Sessore, per quanto riguarda la prossima vendemmia, c'è già qualche notizia? Cosa si prevede? Io mi auguro sia un'ottima vendemmia come gli anni passati, anche se ci sono problemi di meteo come avete potuto riscontrare in questo periodo.